Musica Terza edizione per Music Connect Italy Napoli World Festival Internazionale di Musica che si svolgerà dal 28 al 30 novembre fra Teatro Nuovo, Auditorium 900 e Questè. Sono il programma 14 Showcase, vetrine musicali dal vivo in cui gli artisti potranno far ascoltare la loro musica a un pubblico di esperti e di addetti ai lavori. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito. La direzione artistica del festival è di Enzo Avitabile, l'organizzazione di Fabio Scopino e Davide Mastropaolo. Oggi ci sono gruppi che vengono anche per la prima volta a Napoli, da varie città d'Europa e anche dall'Asia in particolare e con un genere musicale abbastanza trasversale. Questa è anche un'occasione per creare per gli artisti e per gli operatori del settore degli strumenti per proporsi in maniera concreta e quindi questo progetto di avere Napoli al centro anche di una filiera se vogliamo professionale, lavorativa è ovviamente fondamentale. Il festival, che prevede anche incontri tecnici, un laboratorio e due DJ set notturni, ha il patrocinio del Comune di Napoli e rientra nel più ampio progetto di Napoli Città della Musica. Siamo molto soddisfatti, è un progetto assolutamente coerente con Napoli Città della Musica ed è nato con Napoli Città della Musica. Napoli World rappresenta l'internazionalizzazione della musica napoletana e delle professionalità musicali napoletane nel mondo. Offre una vetrina ai nostri artisti, abbiamo ospiti da tutto il mondo e quindi è proprio il concetto essenziale di un ponte fra Napoli e il Mediterraneo, fra Napoli e tutto il resto del mondo. È un'iniziativa nella quale il sindaco crede molto e siamo quindi davvero soddisfatti.